Non vi girate perché... ecco, no, perché se vi voglio mettere su YouTube qualcuno rompe. Se vi voglio mettere su YouTube magari qualcuno rompe. Appunto, non ti sto riprendendo la faccia. Comunque potrò dirlo che è un'escursione vegan, no? Infatti non lo è perché abbiamo detto che qui accogliamo tutti. Ma qualcuno che ti va a mettere su YouTube e fai il giro del mondo, no? Almeno viaggi, no? Così non inquini e viaggi. Abbiamo trovato come fare. No, non vi riprendo le facce con la scusa che non vi voglio mettere su YouTube e in realtà è perché non mi piacete. Eh, infatti, infatti, innamorati. Poi uno è artificiero, artificialista, un altro è l'uomo della giungla. Mi spieghi questo artificialista, chi è di fatto? Che vuol dire? Vabbè, mi piacciono le cose artificiali. Vedi, il collo è pezzata quella mucca. Spiega un po' qualcosa, va? Spiega qualcosa sulle mucche. Le mucche sono molto cornute oggi, vedo che... Vabbè, di qualcosa di meglio. Di meglio. Poracci. Ecco, bravo. Che queste stanno qui, sembra che stanno qui. Allora tu appunto diventerai completamente fruttariano quello di per le mucche. C'è anche per questioni etiche. Certo, io ho usciato così. Ah, vedi il vitellino, guarda, riprendi il vitellino che... Eh, ma non arriva così lontano. È un ciuccio, guarda, guarda, guarda. Vedi? Oddio, che tristezza, pensare, pensa che giorni fa ho conosciuto una ragazza che diceva no, non mi togliere il latte la mattina che per me è come il ciuccio. Dico, brava, hai capito che era il ciuccio di qualcun altro. Comunque che meraviglia. Qui si può andare piedi nudi, c'è ragione, qui, eh. Ecco, allora da lontani vi si può riprendere. Dove siamo così almeno? Dove siamo, in che zona siamo? Qui siamo. Sabina. Sì. Sabina. Francesca. Sì, vabbè. Senti, fammi vedere a me la ripresa, va. Anzi, la faccio io. Sì. No, così che mi si veda a me. Non mi fa lavorare. Oddio mio. Oddio mio, oddio mio. Senti, come si fa a bere? No, ma stanno già riprendendo. Ah, ma già stanno riprendendo. Vediamo. Ah, già io stavo a fare così. La mia città vegana è la mia prima escursione. Oddio, oddio, oddio. Senti, però è troppo zoomata, perché se vede la faccia grossa com'è. Come si fa? Come si fa a allontanare? No, vabbè, niente, fammi finire il concetto. Questa è la mia prima escursione. È la mia prima escursione soprattutto dove è richiesto che le... No, perché la computer deve stare solo e sempre dritta. Ah, dritta, ok. No, ma non riesco a fare una cosa più bene. Ok, vai, vai. Dimmi, dai, vai. Voglio dire solo che... E se tu non lo dici, che ne so? Le bellissime gite sono invitati tutti quanti, purché tutti portino un pranzo che sia vegano. Poi puoi essere anche... Carnivoro. No, i carnivori non esistono. Sì, carnivori. Diciamo... Anche essere onnivori. Diciamo mangiatori di carne. Sì, però in questa giornata gli organizzatori richiedono gentilmente un pranzetto crueltissimo. di tutto qua. Questo lo trovo veramente carino. Molto bello, sì. Ah, se volete sapere chi sono, si chiamano Tito e Luisa, però per mettersi in contatto con loro come si fa? Se qualcuno volesse fare... Hanno inventato i telefoni? Vabbè, uno si fa in un telefono, ve lo diciamo in un altro filmino con loro. Un altro filmino? Poi la voce riprende, no? Eh, cioè, mi sembra mia nonna che mi dice che sta riprendendo la voce. Ma che vuol dire? Allora mi sa di sì. Quelle cose le ho buttate da anni. Allora mi sa di sì. L'ultima macchina di fotografia l'ho buttata da 10 anni qua. Oddio, ma lo sai che mi sa di sì? Perché se hai rivelato la mia identità. Ti devi ricordare veramente, se farò così con questo, poi... No, io proprio la fotografia ce l'ho proprio... Non mi ha bisogno di guardare e di centrarla dentro, e di una cosa così, no? Che bello, non mi ha chiesto qua, che cosa? Non sarà perché uno le cose belle le fa troppo poco, allora c'è bisogno di rivedersele in foto, nei video, perché tu, che ne so, stai a casa, costretta, chissà che... Questo è esattamente il pensiero degli artisti che lì. Eh. Che bella, eh? Mamma mia, sì. Ma questa cosa è... Sì, sai che io sono stata investita da una mucca da piccola? Invece? Sì, 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 sì. Uscivano tante mucche e io ci sono finita sotto. Allora, andiamo a vedere, poi se lo faccio troppo lungo, sto coso, vedrai che non si carica. Ecco, il latte del vitello, ogni specie prende il latte.